L'avete chiesto, l'avete voluto, l'avete domandato a gran voce e adesso lo avete anche ottenuto. Oggi è il grande giorno perché oggi parte l'edizione 22-23, fa strano anche a dirlo, del mercato che farei partendo dall'Atalanta. Ma prima di iniziare come sempre vi invito a lasciare una marea di mi piace perché appena questo video raggiungerà un numero altissimo di mi piace io me ne renderò conto subito e vedo che lo volete, vi chiedo almeno 5.000 mi piace, vi porto subito un altro mercato che farei, se no domani. Però mi raccomando ragazzi fatemi sentire tutto il vostro supporto consigliandomi anche qua chi prendereste nelle prossime squadre, cosa fareste soprattutto voi per questa squadra qua. Iscrivetevi al canale perché insomma una buona metà, un buon 40%, 45% di chi mi segue non è iscritto al canale e questa non è una cosa carina da fare, ve lo dico chiaramente. Però ragazzi oggi partiamo con il mercato che farei e partiamo con il ricostruire l'Atalanta, una squadra che quest'anno sulla carta la vedete ma anche in realtà nelle statistiche ha fatto molto male perché ci si aspettava potesse arrivare in Champions, potesse spaccare il mondo e invece niente di tutto ciò, l'Atalanta alla fine ha chiuso Ottava e Ottava non è un buon piazzamento. E allora eccola qua, eccola qua, eccola qua l'Atalanta partendo dai portieri, ho deciso di non esagerare con il budget, tra l'altro chiedendo consiglio a un amico, a Otis, che parla dell'Atalanta, seguitelo su YouTube se ancora non lo fate. Ho deciso di dedicare questo video all'Atalanta e ho chiesto a chi ne sapeva più di me e lui ovviamente mi ha aiutato passo dopo passo. Poi molte scelte le ho fatte, io le abbiamo fatte insieme però mi ha aiutato anche per capire quello che è il mondo Atalanta per non tirare degli sfondoni che probabilmente sarebbe meglio non tirare. Insomma l'Atalanta ho deciso di farla partire da 10 milioni di euro come vedete qui sotto. Lui mi ha detto chiaramente che difficilmente l'Atalanta addirittura andrà a spendere, probabilmente andrà anche in positivo, però un 10 milioni si possono anche immaginare per una squadra che si deve rifondare. E in questo momento ovviamente noi teniamo in considerazione l'idea che l'allenatore dell'Atalanta sia Gasperini. Se dovesse cambiare qualcosa in corso andremo a fare magari, poi dipende anche come andrà questo video, lo speciale mercato che farei con il cambio al timone, ma quella è un'altra storia. Detto questo importa l'Atalanta a Musso, Sportiello, Rossi, Gollini e Carnesecchi. Non è un segreto, non è un segreto che Musso quest'anno non ha fatto bene. Non ha fatto bene, potrebbe partire, tra l'altro si parla di interessamenti non di seconda linea, perché addirittura pare che l'Atletico Madrid sarebbe interessato a Musso e vorrebbe prenderlo Simeone per fargli fare il secondo di Oblak. E la cifra che viene stimata per una possibile e probabile cessione di Musso è addirittura quella pari a 20 milioni di euro. E io penso che se l'Atalanta dovesse ricevere un'offerta di questo tipo potrebbe anche farlo partire. Non è andata benissimo quest'anno, con Musso è andata tutto forche bene, ha fatto degli errori importanti, ha fatto anche delle grandi parade, ma ha fatto anche degli errori importanti. E rispetto agli scorsi anni forse il portere è stato un punto debole. Quindi davanti a 20 milioni di euro io lo farei anche partire. Mentre da Gollini dovrebbero arrivare una decina di milioni. Ora non ricordo se Musso vale 20 e Gollini gliene arrivano 10, oppure Gollini gliene dovrebbero arrivare 15. In totale calcoliamo che ci arriverebbero una trentina di milioni di euro tra l'accessione di Musso e il riscatto al Tottenham di Gollini, che pare che in realtà possa anche essere riscattato e quindi nel senso questi due portieri partiranno. A questo punto voi mi chiederete, Sik, ma allora davanti a tutto ciò l'Atalanta chi prende in porta? E la mia risposta è particolare per voi, ovvero nessuno. Cioè io fossi l'Atalanta non prenderei nessuno. Carnesecchi si è dimostrato molto, molto, molto forte. E quando dico molto forte intendo che secondo me è già pronto per fare il titolare. Quindi sono due le possibilità per l'Atalanta. O punti su Carnesecchi titolare, oppure ti tieni Musso ma Carnesecchi lo vendi. Perché non penso che lui sia ancora disposto a stare in giro in prestito nella speranza che prima o poi tu lo chiamerai. Perché Carnesecchi per me, da quello che ha dimostrato, è già pronto per essere titolare. E visto che l'Atalanta potrebbe approfittare dell'annata storta, perché è stata un'annata storta, quantomeno per, come posso dire, cercare di rivoluzionare e ringiovanire alcuni ruoli dove c'è bisogno di questo, fossi io nell'Atalanta cercherei appunto di monetizzare. E quindi mi terrei in porta Carnesecchi come titolare, Sportiello come Panchinaro, Rossi come terzo, e il mio bilancio inattivo di 40 milioni di euro, così da utilizzare quei soldi più avanti per quanto riguarda eventuali spese che servirebbero per mettere a posto la rosa. Passiamo adesso ai difensori centrali. Per quanto riguarda i difensori centrali, ragazzi, l'Atalanta c'ha un botto di giocatori, ma veramente un botto di calciatori. Nell'ordine vi vado a leggere Demiral, Jim City, Toloi, Palomino, Scalvini, Lovato, Ocoli, Sutalo, Bettella. Ce n'ha una marea tra quelli che ha, quelli che tornano, quelli che vanno via, quelli che devono essere riscattati, ce n'ha veramente tanti. Sono in totale nove, e sono un po' troppi nove. Soprattutto è vero che giocano a tre, quindi io sei me li terrei, perché sei secondo me sono il minimo per una squadra che gioca a tre e che vuole magari ambire a tornare in Champions. Noi proveremo a fare quello, proveremo a fare quel progetto lì, a far ritornare l'Atalanta in Champions League immediatamente. Però va detto anche che nove sono tanti, soprattutto per una squadra che non fa nessuna competizione europea, perché l'Atalanta non farà la Champions League, non farà l'Europa League, ma non farà nemmeno la Conference League. E quindi questi portieri sono, sì, questi portieri, questi difensori sono tanti. Partiamo da Demiral, che ha un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Negli ultimi giorni si parlava addirittura di una possibilità che l'Atalanta non esercitasse il riscatto. Io fossi l'Atalanta, il riscatto lo eserciterei. 20 milioni di euro li pago volentieri, ma credo che Demiral possa essere il futuro di questa Atalanta. Gem City e Toloi hanno rinnovato entrambi, e quindi io credo in generale che, anzi, Gem City e Palomino hanno rinnovato entrambi, io credo che entrambi rimarranno all'Atalanta, mentre Toloi è il capitano, e quindi anche per quanto riguarda Toloi, credo sia normale che rimanga all'Atalanta. L'ultimo nome che io terrei degli altri è Scalvini, che secondo me può crescere. All'Atalanta sarebbe il sesto, però nessuno vieta che se Scalvini dovesse effettivamente esplodere addirittura più di quello che ha già fatto nell'ultima stagione, perché ha fatto già molto bene, possa diventare titolarissimo di questa Atalanta, quindi Scalvini me lo tengo. Per quanto riguarda tutti gli altri, dispiace per loro, ma io li vado a prestare tutti. Bettella, Sutalo, Coli e Lovato. Diciamo che quello che più mi incuriosisce in realtà è Lovato, che potrebbe anche rimanere, però visto che io ho un difensore, voglio prenderlo, perché credo che l'Atalanta abbia bisogno di un difensore da prendere, perché questi sono bravi, ma non c'è un giocatore... Cioè, diciamo, serve almeno un altro Demiral, se così si può definire. Beh, sinceramente, io penso che Lovato si potrebbe anche andare a riprestare per fargli fare un altro anno di esperienza. E il difensore, stavo per morire, che mi è venuto in mente, è Teate del Bologna. Diciamo che la cifra da spendere non è bassa. 15 milioni più bonus minimo, ma in realtà potrebbero anche salire i soldi fino a 20 milioni di euro cash subito. Però, insomma, il Bologna, se dovessero arrivare i 15 milioni, quindi fare una plusvalenza completa, perché Teate, se non sbaglio, va riscattato ancora per 5 milioni, quindi loro prenderebbero 5, venderebbero a 15 più bonus, e farebbero una plusvalenza importante. Mentre all'Atalanta lo vedrei molto, molto bene, ma molto bene, perché credo che lui sia già pronto, si è, diciamo, preparato alla difesa a tre con Mijajlovic e con il Bologna, quindi già conosce perfettamente il sistema di gioco che poi troverebbe da Gasperini. E quindi per me sarebbe il difensore perfetto per questa Atalanta. Quindi in questo caso avremmo Teate, De Miral, Giunziti, Toloi, Palomino, Scalvini e il bilancio inattivo di 5 milioni di euro. Vi cito anche che probabilmente i dolarissimi sarebbero Teate e De Miral con Toloi che è capitano e poi Giunziti, Palomino e Scalvini. Per me sarebbe un'ottima difesa questa dell'Atalanta che punterebbe a tornare subito in Champions League. Passiamo adesso agli esterni. Per quanto riguarda gli esterni, in questo momento questa è l'Atalanta, quindi a Mele, Zappacosta, Atebor, Pezzella, Ruggeri e Del Prato. Anche qua vanno fatti dei ragionamenti non scontati. Perché dico questo? Perché ci sono dei giocatori che dopo anni probabilmente hanno fatto il loro tempo all'Atalanta non perché sono scarsi ma perché forse è meglio puntare su qualcos'altro potrebbero lasciare la Dea. Allora io credo che Mele e Zappacosta dovrebbero rimanere tecnicamente perché potrebbero fare molto comodo a Gasperini. Mentre Pezzella con tutta probabilità non verrà riscattato ma perché ha dimostrato di non essere all'altezza dell'Atalanta. E Atebor potrebbe andare via. Si parla di cifre molto alte, si parla di 20 milioni di euro quindi non è che parliamo di spicci e 20 milioni di euro per me farebbero super comodo a questa Atalanta per costruire quel futuro che io vedo e vedo molto molto rosio. Inoltre non dimentichiamoci che qui tecnicamente dovrebbero arrivare i 15 milioni di euro da parte dell'Inter che in realtà sono segnati 22-23 o 23-24 ma dovrebbero essere mesi a bilancio in questo bilancio quindi in questa sessione di mercato di Gosens da parte dell'Inter quindi arriverebbero tanti soldi e soprattutto presterei Ruggeri e Del Prato che al momento secondo me non sono ancora pronti per l'Atalanta. Quindi tra questi che vedete questi qui alla mia destra questi qua anzi questi qua 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 vabbè dai avete capito lì sotto io terrei solamente Mele e Zappacosta. Chi prenderei? Io prenderei due giovanissimi che stanno facendo bene nei rispettivi club di Serie A che tra l'altro giocano entrambi da esterni di centrocampo quindi perfetti per quello che dovrebbe essere il ruolo e il lavoro dell'esterno di Gasperini. Il primo è Haiki dell'Atalanta del Bologna valutato 15 milioni di euro e per me potrebbe fare molto comodo all'Atalanta anche perché a mio modo di vedere è un po' il profilo perfetto per quello che dovrebbe insomma a parte ho preso il Bologna cioè io ho preso Pracci io ho preso Teade io ho preso Haiki però ci sta comunque un paio di acquisti ci stanno e Haiki per me sarebbe perfetto e andrebbe anche a fare il titolare dell'Atalanta gioca ad alti livelli in Serie A ha dimostrato nonostante la giovanissima età perché secondo me non c'ha ancora 20 anni Haiki forse ce n'ha 19 barra 20 ma secondo me 20 non li ha fatti che è già pronto per essere titolare e come ho fatto il discorso per Carnesecchi ve lo faccio qua per l'Atalanta sarebbe doveroso sì per l'Atalanta sarebbe doveroso provare a fare il grande salto l'altro nome che invece costerebbe una decina di milioni poi bisogna capire perché adesso magari te ne sparano 30 ma io ho i miei grandi dubbi se parte per quella cifra lì è Udoge dell'Udinese secondo me con una decina di milioni di euro te lo porti a casa e sarebbe perfetto anche lui è molto giovane a 18 anni e per l'Udinese aver preso questo giocatore dal nulla averlo lanciato e venderlo a 10 milioni di euro farebbe molto molto comodo così facendo tra l'altro l'Atalanta non spendendo nemmeno troppo perché insomma avrebbe speso 25 milioni tra i due esterni che poi non sarebbero titolari perché secondo me insomma a parte lui se dovessimo parlare di ruolo Mele e Zappacosta sono due destri di nascita mentre Udoge e Haiki sono due sinistri però in realtà ha giocato spesso Zappacosta a destra o sinistra Mele gioca spesso a destra Udoge e Haiki si possono alternare tranquillamente io se dovessi vedere vedo forse titolare Zappacosta da una parte e Haiki dall'altra e Udoge e Mele in panchina ma in realtà non c'è sicurezza qui possono giocare Mele e Zappacosta possono giocare Udoge e Haiki possono giocare chi vuole Gasperini li può tranquillamente dosare ma soprattutto avrebbe l'attenuante di gestirli con calma perché non è che tu stai prendendo 4 che comunque vogliono giocare tutti per forza ci sono due ragazzini under 20 che comunque arriverebbero in una squadra che negli ultimi anni ha fatto la Champions l'Europa League eccetera e sarebbero allenati da Gasperini che avrebbe il tempo materiale di forgiarli tutti quanti e quindi non avrebbe nemmeno l'ansia di dire devo acquistare subito devo prendere subito devo subito farli giocare e tutto quanto quindi sulle fasce l'Atalanta avrebbe Mele, Zappacosta, Udoge e Haiki e il bilancio inattivo di 15 milioni di euro quindi anche qua cifra relativamente bassa ma abbiamo ancora un budget importante nonostante la squadra che si sta costruendo secondo me è molto forte per quanto riguarda la linea mediana del campo i nomi sono Copminers Deron, Pasalic, Froiler e Colpani allora c'è una situazione legata a Colpani che non ho capito se dovrà essere riscatato dal Monza o meno vi dico chiaramente se Colpani torna da Monza me lo tengo se non torna e rimane al Monza ciao e non lo sostituisco perché qua 4 vanno comunque bene però se il quinto è Colpani che è un giovane in rampa di lancio e tutto quanto mi va bene ugualmente quindi alzo le mani e rimango così detto questo qui ci abbiamo Copminers Deron, Pasalic e Froiler io credo che qui l'Atalanta non debba toccare nulla è un reparto coperto è un reparto perfetto tra l'altro Pasalic gioca delle volte anche da trequartista Gasperini non ha problemi sul dove schierare Pasalic sono calciatori che sono funzionali perfettamente per il modus operandi di Gasperini e quindi personalmente io lascierei tutto così veramente non cambierei nulla tra l'altro è un reparto sul quale è già stata messa a mano perché è stato rinverdito con l'arrivo di Copminers lo scorso anno che sta facendo anche molto bene quindi con Copminers Deron, Pasalic, Froiler, Colpani e il bilancio in attivo a 15 milioni di euro me ne volo sulla trequarti qua probabilmente non sarete d'accordo con molto però vanno fatte delle scelte e io le mie scelte le ho fatte partiamo dal fatto che qui l'Atalanta Malinoski Pessina Miranciuk Kovalenko e Cortinovis Malinoski me lo tengo non si tocca titolare assolutamente sì alzo le mani non pensate di poter cedere Malinoski perché deve essere titolare di questa squadra per quanto riguarda Kovalenko lo andrei a prestare per quanto riguarda Cortinovis me lo terrei per la panchina mentre a malincuore cederei sia Pessina che Miranciuk Miranciuk diciamo che con una decina di milioni facciamo undici che è quello che lo valuta Transfermarkt insomma ce li fai e i soldi me li metto in tasca per quanto invece riguarda la situazione Pessina su Pessina ragazzi ne parlavo appunto con Odis e lui mi faceva notare come sia un calciatore che ha avuto un'evoluzione un'involuzione pazzesca cioè dallo scorso anno dall'anno in cui tra l'altro lui ha vinto l'Europeo Pessina non ha azzeccato più nulla tant'è che l'Atalanta ha provato a metterlo in campo titolare praticamente sempre e lui mi dice Odis ha fatto praticamente sempre cagare e quindi se bisogna insomma avere un calciatore che vale così tanto sulla tre quarti sarebbe il caso di vendere lui e di prenderne un altro che potrebbe essere più utile alla causa se dovesse esplodere altrove amen ciao e quindi probabilmente Pessina lo venderei tra l'altro ha una cifra di mercato ancora elevata 18 milioni perché comunque è un campione d'Europa è un giocatore che è nazionale che ha fatto bene all'Atalanta quindi io lo venderei per 18 milioni di euro e qua mi darei solamente Malinoski e Cortinovis ne vanno presi due il primo è un giocatore che può giocare sia sulla tre quarti che come mezzala come mediano e tutto quanto quindi insomma è perfettamente da integrare nel Gasperini Mod e sto parlando di Illich del Verona che più o meno costerebbe una decina 11 milioni di euro facciamo sarebbe perfetto per l'Atalanta tra l'altro sentivo proprio nelle ultime ore che il Verona non farà investimenti importanti dovrebbe cambiare l'allenatore più di così non si può fare tutto quanto e quindi probabilmente i gioiali potrebbero ripartire e io fossi in Illich il pensiero ce lo farei l'Atalanta fossi l'Atalanta lo prenderei 11 milioni di euro è perfetto ma Illich non sarebbe il titolare di questa squadra bensì mi veniva in mente e stavo pensando a Brecalo del Torino che però non è stato riscattato dal Torino lui ha detto allora c'è un problema su Brecalo c'è un grande problema su Brecalo il problema su Brecalo è che lui ha detto al Torino per favore non mi riscattate perché voglio andare a giocare l'Europa voglio andare a giocare l'Europa voglio andare a giocare la Champions se me ne voglio andare per questo faccio fatica a pensare che possa arrivare all'Atalanta però è anche vero che l'Atalanta è un progetto che secondo me sarebbe in linea con le ambizioni di Brecalo certo che se trova posto magari al Milan alzo le mani però se non dovesse trovare posto al Milan eccetera io fossi l'Atalanta lo prenderei immediatamente e quindi avremmo Brecalo che più o meno lo pagherei 15 milioni di euro che secondo me è una cifra manco troppo alta più o meno però la cifra di mercato che vale è quella quindi avremmo Malinoski Brecalo Illich Cortinovis e un bilancio inattivo a 18 milioni di euro passiamo adesso alle seconde punte c'è un sacco di gente qua diciamo che quando parliamo del mercato che farei con Gasperini è sempre molto difficile trovare dei punti di incontro perché comunque lui le seconde punte le mette punte le punte le mette seconde punte le tre quartisti le mette ali le mette farzo cioè è un casino e qua Bougat io me lo terrei Illich forse si ritira Cabezas non lo so lo prestate lo fateci quello che vi pare Mihaila non lo riscatterei Colley per me può tranquillamente essere prestato l'unica cosa che farei pagandolo 10 milioni di euro quindi una cifra importante però comunque l'Inter non te lo dà se non gli metti sul piatto una determinata cifra è prendermi Sebastiano Esposito Sebastiano Esposito che gioca tranquillamente punta o seconda punta quindi perfetto anche qua sotto il punto di vista dell'idea che ha Gasperini del calcio e per me Sebastiano Esposito non sarebbe nemmeno tra i sostituti pronti cioè verrebbe all'Atalanta per crescere però anche qua sarebbe un investimento giovanissimo per il futuro dell'Atalanta e quindi con Bougat Sebastiano Esposito il bilancio attiva 10 milioni passiamo all'ultimo tassello ovvero alle punte per quanto riguarda le punte l'Atalanta ha Duvan Muriel Piccoli Lammers e Vido Duvan e Muriel per me devono rimanere assolutamente mentre Piccoli lo vado a cedere anzi lo vado a prestare cedo a 6 milioni Lammers cedo a un milioncino Vido circa facciamo questo mentre per quanto riguarda l'acquisto andrei a prendere Pinamonti allora voglio fare chiarezza così andremo a zero Pinamonti lo pago più o meno 15 milioni di euro anche qua non c'è bisogno perché comunque c'è Duvan c'è Muriel c'è Sebastiano Esposito li può far ruotare però quest'anno per la prima volta quando dopo che compravano Lammers Petagna quella e quell'altro Gasperini ha detto guarda possiamo rimanere tranquillamente Duvan e Muriel e quest'anno per lungo tempo non hanno avuto la punta e quindi per me è un rischio troppo grosso e quindi io la punta la prenderei alla fine sono 15 milioni è giovane crescerebbe e fossi l'Atalanta proverei a prendere Pinamonti per quella cifra là detto questo andiamo a guardare la formazione la formazione è questa qua Carnesecchi in Porta con Sportielli in panchina Teate Demiralle e Toloi titolari con in panchina Jim City Palomino e Scalvini Zappacosta a destra Aigli a sinistra Deron e Freuler centrali ma Mele a panchina a destra Udogli a sinistra Copmaners e Patalice centrali sulla tre quarti non so perché mi ha storpiato tutto ma va bene uguale Bregalo e Marinoski in panchina Boga e Ilic davanti Duvan o Muriel altri Rossi Colpani Cortinovis Esposito e Pinamonti questa è l'idea di Atalanta che mi sono fatto a questo punto però la palla passa a voi fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale mi raccomando se non l'avete già fatto io vi ringrazio tantissimi mi piace buona ciao all'alene come sempre ci vediamo ad un prossimo video all'alene come sempre